Fare il carabiniere per me significa essere al servizio della gente, parlarci e capirla. Sono loro la nostra ragione di esistere. Si presenta così il colonnello Francesco Merone, subentrato a Giovanni Adinolfi. Il nuovo comandante dei carabinieri di Avellino si è insediato ufficialmente stamattina. Dopo una breve ricognizione con il procuratore della Repubblica, Rosario Cantelmo, ha illustrato ad una ad una le sue priorità. Usura, criminalità organizzata, lotta alla droga. Sicuramente una realtà quella velinese che già conosco avendo comandato il reparto perdito in passato. Quindi ciò costituirà un valore aggiunto sicuramente nella mia azione di comando e costituirà una spinta motivazionale per gli oltre 800 carabinieri che giornalmente operano nella provincia arpina. La priorità sarà quella di far comprendere ai miei uomini di stare vicino alla gente. Stare vicino alla gente e di fare attenzione a tutte le problematiche, a tutti i piccoli e fatti specie criminose. Parliamo di furti e rapine che giornalmente preoccupano la popolazione. Bellustura purtroppo è una fatti specie criminosa di difficile interpretazione. Conta molto ed è basale nella collaborazione della vittima. Originario di Venticano, dopo una lunga permanenza a Salerno, Merone torna dunque nella sua Irpinia. Amo fare il carabiniere, ha detto, ed è l'unica cosa che so fare. Non ho esitato in passato a rifiutare incarichi più onerosi per restarci. Ora è l'impegno. Torno finalmente nella mia terra. Non posso sbagliare. Certo, è un'emozione particolare tornare da comandante nella propria terra dove si è nato e dove si è cresciuto. Io sono originario di un piccolo paesino, il Venticano, e quindi per me questo è un entusiasmo particolare. Darò il massimo per la mia provincia. Comandante.